Noi a volte diamo per scontato, e non so, diciamo campo profughi, senza soffermarci molto su che cosa significa vivere quotidianamente e soprattutto essere bambini e crescere in un campo profughi. Provi a raccontarlo a me e a tutte le persone che questa cosa non riescono ad immaginarla. Allora, il campo profughi è un luogo circondato dal filo spinato, circondato quindi da dei pali di legno filo spinato e con delle guardie e non puoi uscire, non è che sei libero di uscire, entrare quando vuoi. Chiaramente puoi uscire solo se vai o al lavoro, i genitori, o altrimenti non puoi uscire. Chi eravate all'arrivo in Italia? Mia mamma, mia sorella e io. Certo coraggiosi i tuoi genitori, a fare una scelta di questo tipo, con due ragazze piccolissime. Quando pensi a quegli anni là, c'è un ricordo indelebile dentro di te? Un ricordo prepotente? Sì, ci sono tanti ricordi prepotenti. Quello che ti fa maggiormente soffrire? C'è la violenza, sotto quale forma? Sì, è forte perché chiaramente tutti noi profughi che eravamo lì dovevamo sopravvivere, tra virgolette. Quindi c'erano delle ragazze sole che si sapeva, si prostituivano. C'erano ad esempio dei padri che facevano prostituire la moglie, poi però litigate, picchiavano, quindi i bambini picchiati. C'era molta violenza in questo senso e poi ogni tanto di notte sentivi, veniva la polizia, sentivi dei rumori tutti chiusi e poi la mattina vedevi la porta spalancata e non trovavi più le persone che erano state portate via, rimandate nei paesi d'origine. Quando ti capita di rivedere in televisione, nei telegiornali, negli speciali, nei programmi di attualità, le immagini di un campo profughi, che cosa provoca dentro di te quell'immagine? Eh, provoca dentro di me, mi fa pensare, mi fa pensare a tutto quello che abbiamo passato, però mi fa pensare anche a tutto quello che si continua a passare per diventare, per poter essere un cittadino di un paese che non è quello tuo di origine.